Lettura di Uno Stato d'animo, Memorie del tempo e comportamenti urbani nel mondo comunale italiano di Roberto Bordone, pubblicato da Firenze University Press per reti medievali, disponibile in download al link in descrizione. Parte prima, capitolo terzo. L'uso politico della memoria storica, i cronisti astigiani. Sul finire del XIII secolo, il panorama politico della Lombardia occidentale presenta apparentemente i caratteri di una certa stabilità. I comuni piemontesi, in seguito alla cattura e alla morte di Guglielmo VII di Monferrato, si sono liberati di un'ingombrante pregiudiziale sulla loro autonomia, sia quelli che, come Casale, Ivrea, Acqui, Alessandra e Tortona, erano direttamente sottoposti al suo dominio, sia quelli che lo avevano avuto in qualità di capitano generale, come Novara e Vercelli. Anche chi, come Asti, per la sua potenza era rimasta fuori dal controllo all'eramico, non poteva che rallegarsi della scomparsa di un pericoloso avversario e provvedeva a dividerne le spoglie, occupando militarmente i castelli di confine. Sul versante signorile i Savoia, con l'acquisizione di Torino nel 1280, si avviano a diventare la maggior potenza regionale, sia pure dividendo il territorio pedemontano con il ramo poi detto degli Acaia, mentre ceppia le eramici minori, come i marchesi di Saluzzo, non nascondevano le loro mire sull'indebolito marchesato di Monferrato, che di lì a poco resterà senza titolare per l'estinzione del ramo diretto. In questo quadro di temporaneo equilibrio, il cronista astigiano Ogerio Alfieri poteva ben compiacersi della grandezza del suo comune, tessendo delle vere e proprie laudes civitatis e sottolineando come il comune di Asti si è vendicato della maggior parte dei suoi persecutori, ottenendolo rispetto da quegli stessi che gli fecero e procurarono del male e prendendosi rivincita su tutte le guerre e contese. Il persecutore più recente era stato proprio Guglielmo VII e a lui in particolare Ogerio indirizzava le sue invettive, enunciando indirettamente quella che si può definire l'ideologia comunale di cui si fa un certo senso portavoce il solerte funzionario. Bisogna infatti rammentare che il cronista astigiano è al tempo stesso un personaggio di rilievo nella vita politica della sua città, utilizzato dal comune per delicate missioni diplomatiche e per ultimo svolge le funzioni di archivista sacrista dei documenti comunali, ragione prima probabilmente della sua attività di scrittore. Le considerazioni dunque possono avere l'autorevolezza di una versione ufficiale e rappresentando in ogni caso il punto di vista dell'amministrazione rivestono per noi un grande interesse, tanto più in considerazione del fatto che ben di rado è possibile il recupero della dimensione storico-politica attuabile ad esempio in quelle fiorentine del compagno del Villani. Scrive dunque Ogerio Guglielmo Marchese di Monferrato aveva molto potere e signoria in Lombardia e dominava su molti castelli e località nonché città. Per questo montò in grandissima superbia e voleva ottenere il principato su tutta la Lombardia e principalmente sulla città di Asti, sebbene fosse vassallo e cittadino della stessa città. I predetti astesi, poiché si rifiutavano di subire quella soggezione, non vogliono offrirgli alcun potere, per cui il predetto marchese portò una guerra grandissima ed esiziale al comune di Asti. La prima osservazione riguarda una constatazione di fatto. Il marchese detiene vasto dominum et senioriam in tutta la Lombardia, con il possesso di castelli e città, una condizione del tutto normale in quanto forma, benché eccezionale come dimensioni. Ma è la seconda osservazione, articolata in due momenti, che nel discorso emerge un tono espressamente moralistico. Assurdo in superbia maximam, il marchese vuole ottenere il principatus totius Lombardiae. Il termine principatus è del tutto inedito e unico nel testo di Ogerio e appare ben diverso dai termini precedenti, indicanti la detenzione del potere territoriale. Si può forse pensare che con esso il cronista intendesse, anticipando con lungimiranza la situazione successiva, esattamente ciò che sarà il principato trecentesco, cioè un'organica dominazione regionale, tanto più che l'ambito di esercizio di tale pretese è esteso a tutta la Lombardia. Interpretazione più che verosimile da parte di Ogerio, dal momento che ha una costruzione del genere, come si rileva dal saggio di Annibale Bozzola, il marchese Guglielmo si avvicinò, sia pure per poco tempo, con notevole approssimazione. Ma si tratta con tutta evidenza di un'interpretazione di segno negativo, come si evince con chiarezza dal riferimento alla superbia maxima, manifestata nei confronti della Lombardia e, soprattutto, nei confronti di Asti. Se, come naturale, è l'aggressione alla sua città che gli sta particolarmente a cuore, pare tuttavia di cogliere nell'espressione di Ogerio una sorta di interesse che è certamente eccessivo definire patriottico nei riguardi di un'entità più vasta, nella quale anche Asti in fondo si riconosce. Quella comune Lombardia urbana, che mal sopporta intrusioni dinastiche, secondo un costume che risale a oltre un secolo prima, sottolineato allora da Ottone di Fresinga, con le sue considerazioni relative all'amore e di libertà dei Lombardi, e rievocato molto più tardi dal cronista novarese Pietro Azzario, nel nostalgico ricordo della situazione Un tempo felice della Lombardia, felix quondam Lombardia e status. Più sottile e più tecnicamente giuridica appare la seconda parte delle considerazioni relative al marchese, quella cioè che riguarda direttamente Asti. Guglielmo voleva ottenere il principato di Asti, quambis esset vassallus et civis civitatis astensis. Nel corso del XIII secolo il comune di Asti aveva perfezionato i sistemi di controllo e di soggezione sul contado dipendente, organizzandolo e articolandolo in quattro categorie, ricordate dallo stesso Ogerio. Due soltanto territoriali, Locanova e Ville Veteres, inquadravano gli abitanti delle località direttamente amministrate dalla città tramite i suoi funzionari. Due personali ma con significato territoriale, Vassalli e Cives, detentori di Castelli patrimoniali, erano state costituite dai signori locali sottomessi al comune o tramite l'istituto feudale o con il più vincolante legame cittadinatico. In entrambi i casi essi erano tenuti a mettere a disposizione del comune i loro castelli, pur rimanendo a tutti gli effetti domini. Le vicende politico-militari avevano costretto fin dal passato i Marchesi di Monferrato a prendere il cittadinatico astese e a diventare Vassalli del potente comune per alcuni loro castelli. Avvenimenti più recenti, quali la lotta contro il predominio angioino in Piemonte, contribuirono in seguito a rafforzare questi vincoli di forzata amicizia fra i due tradizionali nemici, sicché l'improvviso ritorno all'abituale politica e decressione da parte di Guglielmo appariva ancora più biasimevole in quanto suonava come un attacco interno sferato da un civis stesso contro la propria patria. Appare chiarissimo l'intento retorico celebrativo del cronista. Di fatto i Marchesi erano ben diversi dai civis abitanti di Nasti, ne poteva un atto giuridico renderli con partecipi degli interessi della classe politica urbana. Tuttavia la sua indignazione appare eloquente nel delineare alla rovescia il comportamento del cittadino onesto e fedele. La conclusione è scontata. Gli astigiani, rifiutando di venire in subiugazione, non vollero rimettergli il dominazionem aliquam e affrontarono il conflitto. Il modello proposto appare dunque rigorosamente democratico e l'immagine offerta è quella di una piena solidarietà cittadina, dove non si ammettono tradimenti da parte di chi è entrato nella cittadinanza o vi ha giurato fedeltà vassallatica. Tranne il Marchese, presentato in maniera certo mistificata come cittadino, gli altri nemici infatti sono stati e sono soltanto o quasi nemici esterni. Imperatori, Papi, il Vescovo, la Contessa Adelaide, i Marchesi del Vasto, i conti di Biandrate, Re Carlo, i Savoia, i signori locali, gli Alessandrini, i milanesi. Buoni ultimi nel suo schematico ingenuo elenco di coloro a causa dei quali la città ha sofferto molti mali. Egli aveva però incluso anche i falsi cives a stenses, lasciando forse con voluta ambiguità che si potesse pensare a cives come Guglielmo, ma senza escludere coloro che cives sloverano veramente e che come tali partecipavano alla vita politica cittadina. Asti, al momento in cui scrive Ogerio Alfieri, si trova alla vigilia delle lotte civili delle quali da almeno un ventennio si sono già verificati gli antecedenti. Il governo ha una netta colorazione popolare, anche se i magnati non ne sono stati estromessi come altrove. Eppure nulla di tutto ciò sembrerebbe emergere dalla sua cronaca attenta, anzi a equilibrare i riconoscimenti di merito fra i cittadini assennati e nobili, ricchi e potenti, e il popolo saggio, buono e pieno di ricchezze, che custodisce con cura i beni e l'onora del comune estese. Ciò nonostante, pur continuando a suddividere equamente elogio e condanne, due passi non presenti in tutti i codici ma quasi certamente genuini, al di là di moralismo di maniera, sembrano gettare luce sulle vere condizioni della città. Si tratta dei capitoli intitolati rispettivamente Decivibus Aliquibus Plenis Falsitate, Ignavia et Dolo, e Decivibus Populis Latrunculis. Con la consueta simmetria che caratterizza il suo prudente procedere, Ogerio denuncia l'esistenza in città di alcuni uomini saggi e abbastanza ricchi, che sono pieni di falsità, astuzia e inganno. Del pari abitano in città alcuni popolani dediti a piccole ruberie. L'aspetto rilevante di questa denuncia è costituito dal fatto che l'ambito nel quale si manifestano la falsità degli uni e la disonestà degli altri per il cronista non è in senso generico la vita sociale, ma specificamente l'attività politica. Alcuni magnati infatti fingono di fare qualcosa di buono per l'utilità del comune e tuttavia si comportano in questo modo per poter meglio rapinare e sottrarre in gran quantità gli averi del comune. La riflessione conclusiva sul loro operato appare molto dura. Si tratta di coloro che ricevono importanti incarichi a danno e a detrimento del comune di Asti. Anche i ladruncoli popolari dal canto loro cercano di ottenere ufficia pro comuni per meglio poter arraffare dai beni comunali e appropriarsi dei servizi in danno e a detrimento del comune di Asti. Se si confrontano i due testi, nonostante la voluta simmetria, appare evidente che il danno maggiore provocato dal comportamento dei falsi e disonesti cittadini proviene dai bagnati più che non dal popolo, poiché sono questi a ricoprire i servizi a magna e a sottrarre gli averi comunali in magna quantitate. Si possono avanzare diverse ipotesi su questo atteggiamento di Ogerio che, eppure appartenendo egli stesso alla categoria dei magnati, non c'era il suo biasimo per il comportamento di alcuni di loro, o che non volesse inimicarsi al regime popolare in quel momento al potere, o che piuttosto la moralistica condanna dei cives falsi e astuti si riferisse in realtà a personaggi o a partiti del ceto dirigente cittadino ben individuabili. Forse i Solaro, che nel gioco delle parti assumeranno una posizione guelfa, appoggiando il popolo e a esso appoggiandosi per la conquista del potere, non si può fermare con sicurezza, ma certamente gli alfieri compreranno in seguito sempre schierati col partito ghibellino, condividendone anche i rovesci. L'accusa del cronista è quella di usare dei pubblici uffici per gli interessi privati, per accumulare ricchezze e potere, sottraendoli a quella vera comunis che è possesso della città e non va né alienato e sottoposto a una dominazio esterna, come nel caso del marchese di Monferrato, né dilapidato e disperso per ingordige di gruppi interni. La difesa della libertà e il conseguente rifiuto della subiugazio nella mentalità del cronista diventa un tutt'uno con la difesa della vera comune, che di quella libertà è base e garanzia. Da buon astigiano, Ogerio Alfieri manifesta spirito economico, esponendo il dare e l'avere di ogni impresa. Calcola di ogni scontro bellico le spese sostenute e il danno finanziario subito. Annota puntigliosamente le conquiste territoriali realizzate ricorrendo all'uso della formula commerciale comune astense lucratum fuit. Il territorio dunque rappresenta la principale voce dell'avere comunis e si può verosimilmente immaginare che fra i beni comunali sottratti in magna quantitate, dai cattivi magnati, il cronista pensasse in primo luogo a entità territoriali del tipo, per intenderci, di quei castelli infeudati al marchese di Monferrato che il marchese Quambis Esset Vassallus non aveva messo a disposizione di asti, ma anzi aveva usato contro la stessa città. In quel caso però si trattava di un nemico esterno, in questo di cittadini astigiani. Abbiamo altrove mostrato l'orientamento dei più influenti membri della classe dirigente in quegli anni verso la costruzione di vasti patrimoni fondiari acquisiti con l'investimento dei capitali guadagnate oltralpe con l'attività feneratizia in aree di diretta dipendenza cittadina, le Villeneuve, e il loro radicarsi con lo sviluppo di poteri territoriali tendenzialmente signorili. Una via consueta era l'acquisto dal comune dei diritti di moleggio o di altri diritti di carattere giurisdizionale effettuato in apparenza per sovvenire alle esigenze delle magre finanze pubbliche, in realtà per incrementare il personale potere locale. Non si attaglia forse a un comportamento del genere il giudizio di Ogerio su coloro che fingono di fare qualcosa di buono per il comune per poterlo meglio depredare e in ciò tanto i magnati di segno guelfo quanto quelli di segno ghibellino appaiono ugualmente attivi. Nel quadro fin stucchevole della grandezza di Asti presentato dal cronista i due capitoli anomali denunciano il malessere che si appeggia nella società, un malessere che per Ogerio è forse ancora sanabile con l'additare all'emulazione dei concittadini le glorie del passato, la magnificenza del presente. Ma sono forse i due capitoli espunti da alcune redazioni proprio perché dissonanti con il resto a dare invece ragione dell'intera composizione. L'estremo tentativo di isolare l'infezione mostrando una solidarietà ormai frantumata come fondamento della grandezza del comune. Toccherà a Guglielmo Ventura appartenente alla generazione successiva affrontare direttamente la crisi e indicarne le cause. A Ogerio che a costruire quella grandezza aveva direttamente contribuito nei momenti drammatici ma anche entusiasmanti della lotta contro l'angioino prima e contro Guglielmo VII poi non si poteva chiedere di più. Quando il Ventura, modesto mercante di Pepe e legato ai popolari, cominciava a scrivere il suo memoriale, non solo Ogerio probabilmente è già morto, ma i processi da lui appena accennati sono giunti a sviluppi irreversibili. Le famiglie dei maggiorenti si sono raccolte attorno ai capiparti Solaro e De Castello e nei primi anni del secolo XIV i De Castello Ghibellini hanno preso il potere cacciando i rivali con l'appoggio di forze signorili esterne. La differenza sostanziale con il tempo precedente è determinata proprio dall'ingerenza sempre più determinante dei principi regionali nella politica interna cittadina. Ciò non significa certo che già in precedenza non vi fossero contatti fra membri dei partiti cittadini e dinasti. Quando nel marzo del 1290 il Marchese di Monferrato metteva a sacco il territorio suburbano di Asti, gli astigiani preferirono non uscire dalla città, in ciò consigliati anche dagli alleati, temendo ciò che l'anno precedente era accaduto ai pavesi, quando cioè i fautori cittadini di Guglielmo VII avevano condotto l'esercito uscito contro di lui ad acclamarlo invece come signore e a introdurlo come tale in città. Il Ventura al proposito non fa menzione della possibile esistenza in Asti di un partito filo monferrino, ricorda invece come in occasione di quel conflitto a spese degli astigiani militasse il conte Amedeo di Savoia. La presenza del tipo di quella sabauda sembrano per ora essere soltanto interferenze occasionali, a metà fra l'alleanza militare e l'uso di un servizio armato a pagamento, che non preoccupano ancora il cronista, molto attento invece a rammentare i pericoli corsi in passato dalla libertà municipale. Così ad esempio ricorda un episodio non facilmente databile, ma risalente forse a una cinquantina d'anni prima, relativo a un tentativo di insignorimento da parte del marchese Pallavicino, favorito da alcuni mali cives. Un giorno, mentre era ad Asti, certi cattivi cittadini riunirono il consiglio sulle terrazze del santo per farlo nominare signore della città di Asti e per questo fine il consiglio fu riconvocato al mattino successivo. Ma durante la notte Guglielmo Alfieri, Pietro Lorenzi e molti altri impediscono l'attuazione del piano, provvedendo d'intesa con uomini di legge che non diventasse Dominus Civitatis. La tempestiva vigilanza democratica impedisce un precoce avvento signorile, ma l'episodio denuncia tensioni centrifughe e aspirazioni autoritarie che fin da allora covavano in città. Più tardi, subito dopo la vittoriosa guerra contro gli angioini, affiorano nuovi segni di lacerazione politica e tentazioni a ricercarne al di fuori la comune soluzione. Siamo verso il 1279. Carlo D'Angio è stato sconfitto nel 1275 a Roccavione dalla coalizione astigiano-marchionale. Il comune ha ripreso il controllo sull'ampio territorio del Piemonte sud-occidentale e soggetto alla sua dominazione e tutti i loro vicini temevano gli estesi, conoscendo la loro potenza. Non si trattava soltanto di un recupero politico territoriale, ma dell'affermazione della potenza astigiana nel difendere la libertà del comune e del suo posse. In precedenza, infatti, durante una fase molto drammatica del conflitto e sfavorevole agli astigiani, l'ambasciatore Tommaso Alfieri, inviato presso Carlo D'Angio ad Alba per trattare la restituzione dei prigionieri, si era sentito superbamente rispondere dal siniscalco regio, dite ai vostri concittadini che se non sarete sudditi del mio signore re, tutti gli astesi che sono in carcere moriranno. In questo clima culturale e politico, in cui il dominio angioino appariva ancora come schiavitù a Borreita, avviene un episodio di dedizione di una parte del territorio al rappresentante di una stirpe marchionale. Il podestà di Cuneo, l'astigiano Manuele Pelletta, cede proditoriamente il luogo al marchese Tommaso di Salluzzo, che in tal modo venne creato signore di Cuneo e delle sue valli, con il consenso dei guttuari e segretamente dei loro seguaci. Guglielmo Ventura sottolinea che l'avvento del marchese al dominatus di Cuneo è favorito dai ghibellini astigiani, che operano occulte ai danni del comune. Ma nel medesimo capitolo non manca di ricordare come dal canto loro i guelfi solari avevano scarso potere in asti perché erano stati fautori di Re Carlo. Che cosa ne è stato della solidarietà e della tutela della libertà cittadina se i ghibellini svendono il territorio ai marchesi e i guelfi aspirano all'appoggio degli odiati angioini che attentavano all'autonomia astigiana? In realtà occorre attenuare e di molto l'impressione che, con la nostra conoscenza degli esiti finali, possiamo avere a riguardo dell'ultimo quarto del secolo. Non solo i giochi non appaiono ancora fatti, ma la vitalità delle libere istituzioni cittadine continua ad essere vigorosa. La celebrazione fatta da Eugirio Alfieri attorno al 1294, sia pure con i limiti e sotto gli stimoli che abbiamo segnalato, corrisponde in notevole misura alla realtà. Asti è potente sotto il regime popolare e lo ha dimostrato con gli incrementi territoriali derivatile dalla liquidazione di Guglielmo VII. Non sono ancora le scelte politiche ufficiali a favorire i dinasti, semmai le strategie dei gruppi che agiscono comunque occulte o che, lasciando intendere le loro simpatie, suscitano scarsi consensi. L'ideologia comunale sottesa al moralismo del popolare Guglielmo Ventura è in fondo semplicistica, come quella dell'aristocratico Eugirio Alfieri. La libertà delle istituzioni, l'odio per la tiranni e la difesa dell'integrità territoriale, la condanna delle divisioni interne. Se non c'è lo sforzo di capire la situazione che cambia, c'è però in Guglielmo la coscienza di un mutamento che va al di là del suo comune e coinvolge l'intera Lombardia e oltre. Frutto certo della sua esperienza al mondo, legata ai frequenti viaggi commerciali a Cremona, a Mantova, a Verona e a Firenze, la coscienza del mutamento si coglie nelle osservazioni relative alle divisioni interne delle città che conosce. Egli infatti, con una periodizzazione che diventerà tradizionale, individua con la morte di Federico II il momento di inizio dei disordini in Lombardia provocati dalla divisione in Guelfi e Ghibellini e ne annota coscienziosamente gli sviluppi di città in città. A non computare i genovesi che già prima della morte di Federico si divisero in due partiti, i primi furono i veronesi con Mastino della Scala, poi via via gli altri fra i quali gli Alessandrini furono quasi fra i primi tra i Lombardi che costituirono le fazioni. Non mancando di rilevare con magra consolazione che gli astesi furono gli ultimi a gestire male le loro faccende e le loro imprese. A differenza di Ogerio, Guglielmo, nato proprio attorno al 1250, constata con amarezza che per le divisioni interne sempre ai miei giorni ho visto la situazione in cattivo stato e ancora ora lo è, aggiungendo e specificando meglio in un altro passo che, dopo la morte dell'imperatore, la Lombardia si trovò sempre in cattivo stato e credo che lo sarà perché nei miei giorni ho visto molti tiranni riportarla al nulla. Testimone di tempi calamitosi fin dall'infanzia, non vano e loggettore del tempo passato, il cronista attribuisce le cause della decadenza urbana della Lombardia all'ingovernabilità delle città provocata da due fenomeni congiunti, il formarsi delle parti e l'ascesa dei tiranni. Sulle cause profonde di tale ingovernabilità non si pone domande ma si limita a prenderne atto, ricorrendo a una constatazione che doveva essere tradizionale, espressa per ben due volte con il ricorso a un modo di dire popolare ai suoi tempi, ricordato anche da Fra Salimbene, che la Lombardia è come un'anguilla che non può essere afferrata né per il capo né per la coda e che lo stesso imperatore Federico aveva sottomesso tutto l'impero romano tranne i Lombardi, che non poté mai domare del tutto. Era un concetto di instabilità tipico della realtà cittadina fin dalle origini del comune, quello che veniva così vivacemente espresso con l'immagine dell'anguilla guizzante, ma che al tempo stesso sembrava mal accordarsi con l'ascesa dei tiranni, sia proprio per l'instabilità politica dei regimi, sia per l'attitudine dei Lombardi a non voler essere dominati. Nella tirannide come soluzione d'ordine all'instabilità delle parti può essere accettata dall'astigiano, che pronuncia sempre parole di fuoco, di tono profetico, contro chi osa mettere in pericolo la libertà della patria. Così contro Ezzelino, rievocando secondo i cliché di maniera, temano i tiranni Lombardi perché pessima è la morte dei peccatori e una vita a lungo malvagia porta gli uomini a una brutta fine. Così contro il marchese di Monferrato che scaccia con l'inganno ai della torre da Milano e se ne impadronisce ma viene espulso dai visconti. Temano pertanto quelli che commettono ingiustizie perché coloro in favore dei quali essi compiono opere malvagie non hanno fiducia in loro. Così infine contro l'espulsione degli scotti da Piacenza. Temano infatti i potenti a maltrattare ingiustamente i loro amici e vicini che non succeda loro ciò che avvenne a questi tre tiranni. Cioè agli scotti, ai della torre e al di Monferrato. Eppure nel resto della Lombardia la soluzione signorile si stava affermando proprio in quella seconda metà del secolo in maniera che sarebbe poi diventata istituzionalmente definitiva. Guglielmo coglieva tuttavia il nesso fra gli schieramenti di parte e l'affermazione della signoria cittadina secondo quei meccanismi di aggregazione messi in luce da Ernesto Sestan nel suo noto saggio sull'origine delle signorie. Tutte le signorie dell'Italia settentrionale nascono col concorso diretto o indiretto anche di forze estranee alla città teatro della nuova signoria poiché i futuri signori spesso sono esponenti di forze nuove che non erano di una sola città ma che trovavano solidarietà e consapevolezza di comuni interessi di parte in una costellazione composta da comuni estrinseci e di comuni di intrinseci di cui erano capi militari e politici. Il tiranno era dunque espressione di un partito anzi della logica stessa delle parti laddove la situazione politica precedente consentiva uno sviluppo del genere. Per Ferretto Ferretti di una generazione più giovane del Ventura e Civis di una città come Vicenza da tempo subalterna i Lombardi dopo la morte di Federico II non obbedirono più agli ordini di nessun imperatore in compenso subivano ovunque le pressure dei signori. Alla vigilia della discesa di Enrico VII ben poche città ne erano infatti esenti. La divergenza di giudizio fra i due cronisti appare evidente. Guglielmo che esclude la sottomissione dei comuni Lombardi a Federico paventa la tirannide come sciagura municipale. Ferretto che fa coincidere con la scomparsa dell'imperatore la fine dell'ordine precostituito lo ritiene ripristinato con l'avvento della signoria che vede intorno a sé quasi ovunque affermata e che giudica nonostante l'ambiguità del suo atteggiamento nei confronti degli scaligeri non senza vantaggi per la città. Di fatto la situazione piemontese per quanto inserita nel grande quadro Lombardo presenta tuttavia delle diversità e delle evidenti sfasature cronologiche rispetto al resto dell'Italia settentrionale. Non si dimentichi che comune come Chieri, Alessandria, Vercelli, Novara oltre ad Asti rimasero con alterne vicende indipendenti fino al 300 per poi finire sotto grandi signorie sovra regionali come gli Angiò e i Visconti. Qui in realtà la presenza degli incipienti principati dinastici locali di ascendenza alto medievale che non avevano mai avuto una sede cittadina quali Savoia, gli Acaia, i Saluzzo e i Monferrato svolse un ruolo diverso nei confronti dei comuni rispetto ai nuovi principati duecenteschi con origine cittadina come quelli della Lombardia orientale. L'oiato fra classe politica urbana e dinasti fu per alcuni versi più profondo che altrove poiché interessi concorrenti dividevano da tempo i due gruppi né mai i principi e i marchesi nel corso del XIII secolo riuscirono a impossessarsi delle città più importanti o ebbero interesse a provarci impegnati come erano a consolidare e organizzare il proprio territorio. Le parti cittadine in lotta fra loro cercheranno naturalmente appoggio all'esterno secondo quella dinamica messa in rilievo dal Sestà ma si potrebbe dire con una certa circospezione evitando di compromettere le proprie mire egemoniche e tutelando così indirettamente l'autonomia della loro città. Va anche detto che il governo del popolo sul finire del secolo manifesta una più gelosa attenzione alla custodia dei bon et honorem communis come rilevava Perasti o Gerio Alfieri mentre erano casomai magnati più propensi a trescare con i dinasti. Se torniamo al caso di Asti infatti nell'ultimo decennio del secolo XIII troviamo un grande afflusso di notabili astigiani alla corte e alla mensa del giovane principe Filippo d'Acaia e in forma minore a quella di suo zio il conte Amedeo di Savoia. Interessi economici e politici legavano i ricchi finanzieri Isnardi, Solaro, Asinari, Alfieri ai loro clienti titolati al di là degli schieramenti di parte e oltre ai rapporti d'affari un ruolo non secondario doveva essere svolto dal fascino esercitato da uno stile di vita al quale i cittadini più abbienti si ispiravano. Altre volte ci siamo soffermati sulla descrizione fatta dal Ventura degli splendidi costumi cavallereschi ostentati dai De Castello che pure erano sorti da semplici origini mercantili e in quell'occasione abbiamo messo in rilievo la tendenza manifestata dal ceto dirigente verso l'insignorimento territoriale a spese del comune. Alla radice della crisi istituzionale in altre parole c'è una profonda trasformazione sociale con gravi implicazioni politiche legate alla detenzione di fortezze e di giurisdizioni personali all'interno del dominato comunale che il regime popolare durava fatica a controllare. I cives di questo tipo ambiguamente a cavaliere fra un modello di partecipazione tradizionale alla vita politica urbana e un modello di vita signorile gravitante sul castello potevano con disinvoltura rivolgersi ai principi per ottenere quegli appoggi anche militari necessari per affermare la loro egemonia sul comune senza per questo pensare di compromettere l'autonomia cittadina. La corte del principe d'Acaia come se visto rappresenta il principale riferimento di questa nuova categoria di parvenu finanzieri castellani e Filippo in attesa di sviluppi a lui favorevoli sta al gioco esitando l'inizio fra i due schieramenti contrapposti che adottano i termini convenzionali di Guelfi e Ghibellini. Nei primi anni del nuovo secolo tuttavia i delicati equilibri interni della città si spezzano e si giunge allo scontro armato. Il testo a noi pervenuto del memoriale del Ventura tace a tal proposito ma una laconica annotazione dei conti amministrativi del principe d'Acaia del 1301-1302 nel giustificare le spese per l'invio di aiuti militari ai guelfi estigiani da parte di Filippo ci informa che allora vi era grande discordia tra il clan dei Solaro e il clan dei De Castello e i De Castello erano in armi contro i Solaro. L'appoggio esterno delle truppe del principe deve essere stato determinante per consolidare il potere dei Solaro e il regime popolare al quale i guelfi si appoggiano e forse per la prima volta i vincitori ricorsero alla proscrizione degli avversari. L'avvento dei Solaro al potere non si può tuttavia definire signoria cittadina come non si possono definire tali gli analoghi successi dei partiti presso gli altri comuni piemontesi. La stessa attribuzione del ferreto del titolo di tiranno di Vercelli e di Novara a Simone di Collobiano della famiglia guelfa degli Avogadro appare contraddetta dal più tardo ma meglio informato cronista novarese Azario che ricorda come alla discesa di Enrico VII gli Avogadro tenessero tre parti di Vercelli ma una parte fosse in mano a dei ghibellini tizzoni. La maggior durata di una situazione di instabilità in Piemonte è certo dovuta al fatto che le istituzioni comunali restano nella sostanza le medesime prodotte sul finire del secolo dall'affermazione del populus e poi perché la logica stessa della contrapposizione intrinseci e strinseci prevede la partecipazione di più famiglie agli schieramenti. E seppure lo spizium dei Solaro appare come tendenzialmente egemone esso emerge pur sempre all'interno di un'oligarchia sempre più ristretta che proprio in quegli anni si va strutturando su base parentale consorziale alla quale appartengono tanto le famiglie guelfe quanto quelle ghibelline. Osservando questa struttura che via via si perfeziona fino ad assumere i connotati di una riforma istituzionale in seno al Consiglio si ricava l'impressione che dal suo interno non sarebbe mai stata in grado di esprimere un signore come infatti non accadde per l'esasperata contrapposizione delle forze e l'intrinseca impossibilità politica e materiale di prevalenza da parte di una sola famiglia. Né l'appoggio di una potenza esterna favori un processo di questo tipo in quanto troppo interessata nel tormentato panorama piemontese a un'affermazione direttamente improprio. Si può dunque dedurre che proprio le persistenti tensioni politiche contribuiscono a far sopravvivere più a lungo il libero comune in quanto più tardi va pare qui quell'attenuazione delle violenze e delle divisioni che Giorgio Chittolini indicava come sintomatica dell'avvento di una signoria pacificatrice. Il che a ben vedere ad asti non accade che dopo la dedizione ai visconti del 1342. La sconfitta dei De Castello al principale del secolo XIV inaugura tuttavia una stagione di alternanze che seppure conservano la forma delle libere istituzioni certamente rappresentano qualcosa di nuovo rispetto al passato. I fatti successivi sono noti grazie alla narrazione del Ventura. Nel 1303 i Ghibellini fanno lega con i marchesi di Monferrato e di Saluzzo, entrano con la forza in città, esiliano i rivali i quali appoggiati dal principe da Caia, dopo un anno riconquistano Asti e ne cacciano i De Castello, riportando il governo popolare e abbandonandosi alle rappresaglie. Ciò che tuttavia interessa analizzare in questa sede, al di là degli avvenimenti, è l'atteggiamento di un osservatore che, pur essendone direttamente partecipe come membro del governo popolare, manifesta una sostanziale serenità di giudizio, ancorata a un solido patriotismo di stampo moralistico. Ardente repubblicano, il Ventura non potrebbe comprendere le ragioni storiche del sorgere delle signorie, ma proprio questo atteggiamento retro, aggiungiamo noi, ci consente di cogliere il contenuto ideologico dell'istituzione comunale, così come era andato maturando negli anni travagliati del suo declino e di confrontarlo con l'ideologia celebrativa offerteci da Ogerio Alfieri. Va detto subito che si tratta di un quadro al negativo, deluso e scontento dai modi della vita politica dei suoi giorni, il cronista non risparmia critiche a nessuna delle due parti in causa, né ai dinasti pronti a balzare sulla preda comunale. Tanto i Solaro quanto i De Castello hanno infatti mancato, e talvolta gravemente mancato, nei confronti di una corretta amministrazione della città. Ma a parere suo la colpa più grave è proprio dei Solaro, cioè dei guelfi filopopolari, detentori del potere nel momento in cui il cronista scrive, perché a loro si deve l'origine di tutti i mali di Asti. Essi infatti, prima della cacciata da Asti, avevano procurato molti danni ai più stretti vicini, ai loro aderenti e agli altri magnati che sono detti degli ospizi. Nei confronti dei vicini loro più prossimi e dei loro sostenitori popolari si mostrano insolenti e violenti e, dopo la vittoria ottenuta grazie al determinante aiuto del popolo, ingrati e ingiusti, tanto da poter essere definiti carnefici degli amici. Ma prima ancora di vituperare il comportamento stolto e crudele verso i loro aderenti, il Ventura addossa a Isolaro la grave responsabilità di aver provocato con questo modo di agire la reazione degli altri magnati e le calamitose conseguenze della guerra civile, innescando la spirale della violenza. Esasperati, infatti, i membri degli ospizi e dei maggiorenti incitarono i da castello a compiere cattive azioni. E quali sono i mala opera commessi dai ghibellini stigmatizzati da Guglielmo? Principalmente due delitti contro il comune, la cui responsabilità, tuttavia, ricade sui guelfi. Però sappiamo, i de castelli, tuona con il consueto tono profetico, che il peccato dei Solaro non è stato finora pari a loro, per il fatto che i de castello hanno dato la terra del comune ai marchesi e hanno disperso qua e là il popolo innocente, per cui successero molti guai. La persecuzione del popolus innocens e la diminuzione del territorio comunale rappresentano dunque le conseguenze più gravi del dissidio fra le due parti e lasciano scorgere di contro quali siano i principali valori municipali propugnati dal vecchio cronista, la tutela del bene comune e della libertà e l'integrità territoriale. Per quanto concerne il primo tema, era inevitabile che l'avvento del partito aristocratico ghibellino che nel 1303 aveva esiliato i maggiorenti guelfi e i loro sostenitori penalizzasse il popolus. Ignoriamo per mancanza di documenti se anche le istituzioni avessero subito una riforma, ma certamente i popolari ne furono del tutto allontanati e in qualche caso vennero perseguitati. Per il Ventura, infatti, i de castello sottomisero al gioco della schiavitù il popolo, i magnati e i fedeli dei villaggi e mandarono al confino molti popolari dopo giudizi sommari tenuti da un certo giudice tiranno, che condannò lo stesso cronista all'esilio. Iugum servizius e tirannus sono due parole molto eloquenti, come abbiamo visto per denunciare l'atteggiamento di Guglielmo verso i governi oligarchico-aristocratici, e non deve stupire se più tardi, restabilito il regime precedente, potrà ironicamente rivolgersi ai superbi de castello, facendo loro rilevare che scontano la giusta pena, dal momento che ora i tessitori e i pizzicagnoli posseggono i vostri beni e cavalcano i vostri cavalli. Al di là dello sdegno di popolare, la condanna della perturbazione dell'ordine politico e del civile confronto con il ricorso alla violenza cieca e alla logica della vendetta, investe complessivamente i due partiti, quando il Ventura, nel narrare le distruzioni pirate dai de castello contro le case elettori dei Guelfi, rileva come inciò i de castello diedero un ignobile esempio ai Solaro. E i Solaro, dal canto loro, non furono da meno degli avversari, anzi colpirono indistintamente nemici e amici, rendendo male per bene. Insomma, i vincitori, conclude Guglielmo, incurante degli odi che si attirerà, sono degni di essere puniti con una pena maggiore di quella toccata ai fuoriusciti, sebbene sia stato profetizzato dagli antichi che la Repubblica stese sarebbe stata distrutta dall'eccessivo denaro dei guttuari e dalla stoltezza dei Solaro ignoranti. Quali conclusioni trarre a proposito di questo primo aspetto? Che il cronista giudica come un'intrusione al normale svolgimento della vita politica l'emergere di un ceto dirigente con respirazioni aristocratiche, troppo ricco, troppo invidioso e troppo stolto. In una parola diverso da quello che dirigeva il comune nel secolo precedente. Si trattava certo di una visione riduttiva del complesso travaglio attraversato in quegli anni dalla società stigiana, una visione semplicistica in parte dettata da convinzioni politiche popolari, ma che coglieva sia pure confusamente il nocciolo del problema. L'affermazione di una classe di nuovi aristocratici, maturata nel corso di 50 anni di vita politica municipale, ai quali i confini del comune cominciavano ad andare stretti dal momento che giocavano la loro partita in un ambito più vasto, dal respiro addirittura europeo, come attestavano i fiorenti i banchi di pegno impiantati al di là delle Alpi. Anche il rapporto con i marchesi e con i conti confinanti col territorio di Asti appariva diverso da questi nuovi arbitri della politica cittadina rispetto ai loro padri, i fondatori della potenza comunale. Ciò costituisce un altro punto di incomprensione da parte del buon Guglielmo, appassionato tutore del vecchio sistema. Più grave ancora del turbamento dell'ordine politico municipale, gli sembra il fatto che il prezzo pagato dai De Castello per ottenere il potere in città sia stato il ricorso ai tradizionali nemici del libero comune con l'accessione di porzioni del territorio comunale. L'intangibilità e la difesa del posse rappresentano infatti un caposaldo nella scala dei valori comunali che troviamo già celebrato in maniera vistosa nella cronaca di Ogerio Alfieri. Là infatti gli avvenimenti politico-militari appaiono quasi sempre collegati all'incremento territoriale, le famose lucraziones come abbiamo visto, e la minuziosa descrizione del posse comunale ricorre per ben due volte, una riferita al 1190 e l'altra relativa all'espansione attuale ai tempi dell'autore, un secolo dopo. Anche il Ventura è molto attento a questo aspetto e sinceramente accorato dalle dispersioni, sia per l'oggettivo depauperamento di ciò che Ogerio chiamava la vere comunis, sia perché ne sono beneficiari i nemici di Asti. Quei tiranni perfidi, come i marchesi di Monferrato e di Saluzzo, che nel 1303 in appoggio ai Ghibellini avevano distrutto la città che aveva nutrito i loro progenitori. Dove curiosamente, ma non troppo, Asti pare essere stata nutrice dei predecessori e dei marchesi, secondo un artificio retorico già utilizzato da Ogerio nei confronti di Guglielmo VII, cioè quello di interpretare le eventuali paci e sottomissioni in forma di cittadinatico come genuina partecipazione alla comunità urbana. I Ghibellini de Castello, ottenuto il potere, ricompensarono gli alleati restituendo al marchese di Monferrato le terre e i castelli che gli astigiani avevano occupato in seguito alla guerra contro Guglielmo VII. Il Ventura fornisce un elenco delle restituzioni territoriali e vi aggiunse il bellissimo padiglione che fu del marchese e che il comune aveva dato in custodia come trofeo di guerra a Ogerio Alfieri. Questo oggetto prezioso e insieme ricco di significato simbolico deve aver colpito l'immaginazione del cronista, che vi fa riferimento in ben tre passi distinti. Quando narra la sconfitta di Guglielmo VII, afferma che per portare il famoso padiglione da Vignale ad Asti occorsero dieci coppie di buoi. Nel passo in esame ne accomuna la restituzione alla cessione dei più importanti castelli. In una fittizia lettera mandata dall'Inferno da Filippo Scarampi ai suoi compagni di partito, i Ghibellini sono accusati di non aver protetto né fortificato la città, ma di averla piuttosto danneggiata, di aver restituito al Marchese i castelli et admirablem tentiorum. Un esso non accidentale collega la restituzione dei castelli, il tentorium, e Ogerio Alfieri, al quale era stato affidato. Perché il popolo ha cacciato a viva forza i de castello? Si domanda la lettera di Filippo Scarampi. Perché questi hanno devastato una città ricca e hanno restituito senza difenderli i castelli che uomini forti e combattivi avevano conquistato con mano robusta e braccio vigoroso o che furono anche riscattati e fortificati con molto oro e argento. I castelli in questione erano stati dunque frutto dell'attività militare degli astigiani o erano stati acquistati con l'esborso di denaro sonante. Il rispetto per la memoria gloriosa dei padri, il riguardo verso l'abbondante denaro impegnato, oltre alla tutela dell'integrità territoriale, avrebbero dovuto frenarli. Il padiglione del Marchese rappresenta tutto questo, è il segno tangibile del trionfo astigiano sull'odiato Guglielmo VII, civis fedifrago, superbo attentatore alla libertà cittadina. Simboleggia, anzi è esso stesso, la memoria gloriosa dei padri, allo stesso modo e con gli stessi intenti della cronaca di Ogerio. Ecco perché viene ufficialmente affidato al sacrista comunale, al tutore delle memorie e delle glorie patrie. Restituire il tentorium significa rinnegare quelle memorie, disancorarsi da quelle celebrazioni, manifestare ancora una volta una profonda differenza con il passato, sia pure un passato prossimo di appena dieci anni prima. La nuova classe emergente dà segni di insofferenza verso questo passato, se il peso della sua ombra intralcia le possibilità di comode alleanze, la frequentazione di corti gaie e oggi si direbbe promozionali. C'è una grande disinvoltura nei confronti del territorio, massime nei confronti dei castelli, che sempre più spesso, da cosa pubblica del comune, si stanno trasformando in cosa privata, collegata sì con il territorio comunale, ma in quanto sono i cives che li posseggono a far parte del comune. Se un tempo nella categoria personale territoriale dei castra civium, illustrata da Ogerio, confluivano i signori del contado che diventavano cittadini, ora sono i cittadini che, con la detenzione dei castelli, cercano di diventare signori del contado. Il legame di solidarietà con la città si allenta, non soltanto i ghibellini a maneggiare disinvoltamente i castelli, ma il Ventura lamenta che anche il Solaro, oltre a occupare con la violenza i beni ecclesiastici, posseggono ingiustamente i castelli del comune. Si tratta ormai di un costume generale che si adatta a costruzioni territoriali più agili, come quelle che stanno sperimentando con le loro temporane reti di alleanza, i marchesi e i conti. Dal momento che, come ha rilevato Chittolini, il nuovo stato regionale, soprattutto quello principesco, rinuncia forse a quanto di assoluto e totalitario vi era nelle esigenze di accentramento del comune medievale. In questa rinuncia all'accentramento, che torna comoda la spregiudicata sperimentalità dei percorsi di affermazione familiare dei magnati, consiste la diametrale differenza con il passato comunale e il rifiuto di accedervi da parte dei tradizionalisti, come Guglielmo e Ogerio, è totale, poiché accettarla significherebbe tradire l'intera ideologia territoriale del comune, significherebbe appunto restituire il tentorium. Queste considerazioni, possibili per Asti perché soltanto qui le fonti narrative consentono un certo scavo interpretativo in quello che l'Arnaldi definisce il tessuto mentale connettivo sotteso a ciascuna delle testimonianze, ma probabilmente estendibili a tutte le maggiori città comunali del Piemonte che affrontano i medesimi problemi, stanno forse a significare che al principio del Trecento l'esperienza del libero comune sia ormai esaurita per lasciar posto la signoria? Non del tutto. Che la situazione sia precipitata nell'arco di un decennio e che il panorama politico appaia molto mutato è fuori di dubbio, nonostante i tentativi di chi, come il popolare Ventura, vorrebbe riproporre immutato lo schema tradizionale. Ma che con tali premesse l'avvento di un principe estraneo alle componenti urbane ne costituisca l'immediata conseguenza è un altro discorso. Tanto radicato appare ancora in città il sentimento libertario e autonomistico. Ancora per Asti, un eloquente esempio della gelosa conservazione dell'autogoverno, anche da parte di quella categoria emergente che non appariva certo frenata da morasilismi tradizionali nell'intessere alleanze e contrattare cessioni territoriali, è rappresentato dall'avventura occorsa a uno dei più significativi poli di riferimento della classe politica stigiana, il principe d'accaia. Come si è visto in precedenza, il principe aveva aiutato i fuoriusciti guelfi a riconquistare il potere nel maggio del 1304. Pochi mesi più tardi, in dicembre, il nuovo governo, messo in pericolo dall'offensiva degli estrinseci collegati con i marchesi di Monferrato e di Saluzzo, ricorse nuovamente ai suoi servigi, nominandolo capitano di guerra per i tre anni successivi. Il giovane Dinasta, che era appena tornato dalla Morea, dove tentava di consolidare il suo prestigioso quanto effimero titolo principesco, accettò di buon grado la nomina, sia per il cospicuo introito economico che gli avrebbe consentito, sia forse per perseguire disegni più ambiziosi nei confronti della città che stava attraversando un periodo certo non facile. Il Ventura, che pure in principio vedeva di buon occhio questo principe legittimo e saggio, ancora giovane d'età ma anziano per prudenza e mansuetudine, nato di nobile schiatta, comincia a rendersi conto delle sue mire alla scadenza del mandato podestarile di Guglielmo di Montbel, suo luogotenente, giugno 1305. Gli astigiani scelgono un ravennate, ma la cosa non piace alla caia, che li convince a reggersi piuttosto con quattor consule facti per mense munum, cioè con una magistratura mensile di quattro savi scelti fra i consiglieri. E il cronista commenta, il principe sempre sperava di impossessarsi della signoria della città. I timori di Guglielmo apparevano più che giustificati dal momento che il 17 novembre 1305 il principe si accorda con gli angioini per la spartizione dei territori di Asti e di Chieri e siccome la cosa non ha seguito, nel luglio dell'anno successivo ci riprova con lo zio Amedeo di Savoia, pur mantenendo rapporti diplomatici con gli angioini e continuando a contrarre prestiti con i finanzieri astigiani. Ma nel suo spregiudicato modo di agire, che anticipa la nuova stagione della politica dei principati, commette un passo falso. Dopo un'azione militare contro il marchese di Saluzzo, risoltasi in un sanguinoso insuccesso per negligenza del principe, Filippo, radunate le sue milizie e quelle che Amedeo V aveva al di qua dei monti fingens di vendicare la sconfitta, convoca ad Asti i maggiorenti del Solaro e alcuni maggiorenti del popolo e senza indugio comunica loro di voler avere la signoria e possedere la città di Asti, spartendosela con lo zio. La reazione è immediata. Pieni di ira e di furore, per il doppio inganno, magnati e popolani esplodono. Andiamo e uccidiamo colui che ci ha abbandonati sul campo di battaglia. Non solo aggiungono, facciamo come gli alessandreni. Il riferimento è chiarissimo per il principe, come lo è per noi. Il modello negativo, il tiranno, appare essere ancora una volta Guglielmo VII di Monferrato. Le mire di dominio sulla città sono segno della medesima superbia maxima, che aveva caratterizzato gli intenti di Aleramico. Il principe si ritira in buon ordine e ammette di aver sbagliato, ma si giustifica facendo capire di aver voluto in un certo senso anticipare l'iniziativa dell'angioino e fa giurare agli astigiani di non sottomettersi per il prossimo triennio a nessun gioco di schiavitù o signoria. Ma da quel giorno gli astesi cominciarono a fidarsi poco del principe. Nonostante il rischio corso, Filippo, determinato ad avere ragione di Asti, pochi giorni dopo ci riprova, adducendo il pretesto di voler pacificare intrinseci ed estrinseci, verso i quali estrinseci di fatto si andava sempre di più spostando. La proposta presentata in una riunione informale, alla quale partecipano anche simpatizzanti dei fuoriusciti, convocati dal principe e che rischia di trasformarsi in un tafferuglio, viene reinviata alla discussione del Consiglio Generale. Il capitano del popolo, comprato dal denaro del principe, cerca di convocare alle prime luci dell'alba un consiglio addomesticato, ma gli astigiani insorgono e vi partecipano in grande numero. La descrizione del Ventura, partecipante ai fatti che narra, è vivacissima. Mentre il consiglio è riunito nel giardino della chiesa di San Francesco, Filippo attende impaziente le decisioni nella sottestante sacristia e manda a dire al capitano di raggiungerlo con i consiglieri per deliberare in sua presenza. Fra gli amici dei fuoriusciti e gli intrinseci scoppia un tumulto. Il principe domanda allora che cosa stia accadendo e un popolare gli spiega che le cose si stanno mettendo male per lui dal momento che il popolo sta gredando. Ora è venuto il momento di seguire l'esempio degli alessandreni. Ancora una volta a distanza di poco tempo l'ombra minacciosa della gabbia in cui gli alessandreni rinchiusero a Guglielmo VII compare a estrema tutela della libertà comunale. La buona fede con la quale la classe dirigente astigiana, al di là delle manovre politiche, si difende dai tentativi di assoggettazione signorile esterna alla città appare fuori di dubbio. E questo vale tanto per i guelfi quanto per i ghibellini. Giulio Gardino, giudice e ardente fautore dei De Castello, dopo il ritorno dei Solaro aveva abbandonato la vita politica e dal suo ritiro a Greste, forse il castello di Monale, aveva indirizzato una lettera ai maggiorenti astigiani ammonendoli a non sottoporre la città al gioco di un re o di un principe, chiare allusioni a Carlo II d'Angio e Filippo d'Acaia. I nostri padri vi lasciarono una libera patria e voi non sottomettete dal gioco di alcun re o principe. Con la concordia senza la quale la repubblica stesa non può durare, le cose piccole diventano grandi. Nonostante il duro giudizio del Ventura su questa iniziativa, a suo dire piena di falsità e di inganno, l'atteggiamento super partes che l'ex ghibellino vuole assumere pare consuonare notevolmente con l'ideologia espressa più volte dal cronista, rispetto e venerazione per i patres fondatori di una robusta compagine statale, basata sull'autogoverno. Elogio della libertas e condanna di ogni iugum che viene dall'esterno, invito alla concordia senza la quale, con reminiscenza salustiana, la città non può durare. Già Guglielmo stesso aveva composto un sermone indirizzato ai Solaro, invitando le parti alla pace in nome di un superiore ideale religioso. Mai come prima, in passato, la repubblica moribonda sa forse esprimere la coscienza della propria costituzione, ormai gravemente in pericolo. I fatti successivi sono noti. Asti si avvicina agli Angioini nel luglio del 1310, ma nel novembre il nuovo imperatore Enrico VII, pur osteggiato dai Guelfi e dai popolari, riammette i fuoriusciti e ottiene la piena balia di riformare lo stato della città, dove pone un suo vicario non locale ma toscano. Allontanatosi l'imperatore ricominciano le violenze di parte e nell'aprile del 1312 i Solaro, cacciati i ghibellini con l'aiuto del senescalco angioino, offrono a Roberto d'Angio la signoria di Asti. Da quel momento, come rileva il Goria, mancano quegli accenti di partecipazione viva e sentita che rendono così appassionata e interessante la prima parte della cronaca del Ventura, analogamente a quanto accade alla istoria del Ferreto, dove l'autore dopo il 1311 registra con distacco, secondo l'Arnaldi, il progressivo suotamento della vita politica cittadina. L'analogia però è forse più apparente che reale. Là, infatti, si consolida la signoria duratura di una famiglia sovracittadina, i della Scala. Qui, invece, l'autorità lontana degli angioini favorisce lo sviluppo di un patriziato sempre più oligarchico che, nonostante l'assunzione di modi di vita nobiliare, appare saldamente imperniato sulla città. È certamente una classe politica diversa rispetto a quella che il Ventura ha conosciuto nella sua giovinezza, ma è una classe che ha saputo raccogliere e trasformare l'eredità comunale nella direzione di un diverso concetto di Stato, più adatto alle sue esigenze, senza perdere tuttavia quell'inconfondibile carattere di partecipazione alla vita cittadina, ben distinta dalla corte dei principi territoriali, anzi acquistando di quel carattere più piena coscienza. Ad Asti finiva così l'esperienza del libero comune, ma a esso sarebbe ancora sopravvissuto, per tutto il basso medioevo, l'orgoglio di essere Civitas.